salve carissimi amici tutto ben bentornati nella soffitta di camera mia quest'oggi parliamo di morgan lost numero 10 senza nome e senza volto claudio che verotti ai testi marco perugini ai disegni fabrizio di tommaso alla bellissima copertina vi faccio giusto vedere due immagini di del disegnatore interno un disegno molto molto pulito molto se molto ricco è pieno di dettagli ma molto pulito bello 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 devo dire che mi ha mi è piaciuto dall'inizio alla fine un disegnatore che veramente mi ha fatto impazzire e che non vedo l'ora di rivedere alle matite di questa serie qui ma di che cosa parla questo senza nome e senza volto la scena inizia come abbiamo visto con un primo omicidio ad opera di un nuovo serial killer che effettivamente noi vediamo con una specie di maschera che gli copre effettivamente il viso è un uomo comune un uomo che ha dei tratti così talmente tanto semplici elementari l'uomo della strada l'uomo comune che non ha tratti distintivi tale per cui ti potresti aspettare che lui sia effettivamente un serial killer efferato e che invece sotto sotto nasconde questa indole ha una necessità morbosa quella di sentirsi dire ti amo dalle proprie vittime tanto da lasciare nella bocca di ciascuno di loro un portachiavi che continua a ripetere I love you I love you Morgan Lost indaga su questo serial killer ovviamente non dopo il suo primo omicidio che potrebbe essere un unatantum ma dal secondo in poi comincia a capire che c'è qualcosa che non va e ovviamente ritroviamo Pandora che in questo caso funge solo da consulente e non ha un ruolo così rilevante all'interno della storia stessa riesce a tracciare riescono a tracciare insieme un identikit per capire effettivamente chi sia e che cosa voglia questo nuovo serial killer non mancheranno i colpi di scena nel mentre vedremo effettuarsi gli altri omicidi della serie sempre con le stesse caratteristiche è un uomo senza volto un uomo del tutto indistinguibile dagli altri in realtà noi lo vediamo proprio con un mascherone bianco quindi proprio senza volto per noi ma che compie crimini efferati uccidendo donne e lasciando a ciascuno di loro il proprio portachiavi che continuerà incessantemente a ripetere I love you I love you un giallo se vogliamo classico un thriller piuttosto semplice ma con una buona ambientazione quella di New Heliopolis che continuerei a voler vedere in una maniera più spinta questa città e le motivazioni che l'hanno portata ad essere una città futuristica ma egiziana nel contempo continuo a ripetere ogni video forse prima o poi arriverà una storia del genere con una buona indagine da parte di Morgan Lost e come dicevo prima diversi colpi di scena il classico ultimamente vi sembra di dire che un po' tutti i casi un pochettino più ordinari si concludono in questa maniera con una vicenda che si dilunga per tantissime pagine a un certo punto la vicenda sembra essersi conclusa ma in realtà si apre in realtà ad altre trame che non vi starò a dire nello specifico che cosa succede ma che ho trovato veramente veramente interessante il finale poi è stato un autentico colpo di genio a me è piaciuto mi sono gasato tantissimo era forse dai primissimi albi da Mr Sandman e da La Rosa Nera che non mi casavo così tanto nel finale della storia e questo mi fa proprio dire che questo numero 10 è stato per me almeno uno dei numeri migliori anche perché come dicevo prima mi piace lo stile di Chiaverotti ma la sua deriva un pochettino più fantasiosa un pochettino più esagerata mi piace ma fino a un certo punto preferisco di gran lunga questi gialli un pochettino più classici pur con quel tocco di pazzia da parte dei nemici che mi piace sempre quindi non è una critica è un po' una critica a certe trovate strane che mi piacciono se no non avrei continuato a comprare la serie ma a cui preferisco quando ci sono le storie un pochettino più lineari come in questo caso se l'albo precedente avevo detto che non era il caso di acquistarlo da parte di chi non conosce per niente la serie questo albo qui invece è un perfetto entry point non richiede conoscenze pregresse sì ok vediamo il personaggio di Pandora d'accordo il personaggio che non viene tuttavia il personaggio viene visto parla con Morgan Lost fanno due chiacchiere si capisce che è una profiler è buona lì non c'è bisogno di avere ulteriori informazioni per capire che cosa stia succedendo quindi un bel caso autoconclusivo non vedo l'ora di vedere il prossimo albo anche se la copertina mi ispira poco c'è questo stindiani sto coso che sta per tirare un pugno Morgan Lost non vedo l'ora di vedere perché solitamente le copertine o comunque sia le cose che mi di una serie che mi soddisfano di meno in realtà rivelano un albo che mi piace di più perché ho le aspettative più basse quindi vedremo cosa succederà qui avevo le aspettative alte già dalla copertina e l'albo si è rivelato molto valido anzi per me uno dei migliori della serie detto questo ci vediamo al prossimo video del canale e quindi vediamo al prossimo video del canale